Armocromia, scopriamo cos'è e come può esserti utile. Ti sei mai vista lo specchio spenta, anche quando in realtà ti senti splendida forma? Beh, quasi sicuramente avrai indossato un vestito non in palette. E sai perché? Beh, perché ti sei lasciata influenzare dai tuoi gusti e non sei stata oggettiva. Il colore è un fattore determinante, anzi direi essenziale per dare valore alla nostra immagine. Come può aiutarti l'armocromia? L'armocromia ti aiuterà a trovare i tuoi colori amici per dare una nuova luminosità al tuo viso. Perché dovresti affidarti a me? Beh, perché ho le mani in pasta nei colori dal 1993, anno in cui mi sono iscritta al liceo artistico. Poi mi sono laureata all'Accademia delle Belle Arti di Brera, ho un diploma come Makeup Artist all'Accademia della Scala di Milano e infine mi sono specializzata come colorista in una prestigiosa scuola milanese. Beh, direi che qualcosina di colori me li intendo. Ma tornando a noi, mi piace distinguermi proponendoti una consulenza completa, ovvero non mi limito a consigliarti i colori dell'abbigliamento, ma ti darò anche dei consigli sulla scelta della tinta, del make-up e dei giusti accessori. Se stai cercando un regalo speciale, ecco che l'armocromia potrebbe essere la giusta soluzione. Hai la possibilità di fare la tua analisi in presenza, quindi nel mio studio qui a Cerrusco sul Naviglio, oppure online. Ti aspetto.